partiti in vantaggio si porta deciso Scrum Master nei confronti di Larix quindi a largo Cappuccino Bay passa Larix seguito all'esterno da Cappuccino Bay poi Scrum Master che ora si è sistemato in terza posizione all'interno poi ancora Sir Marley Lady Cashel con in coda Ornigold lungo la curva non avvengono cambiamenti e Larix è il leader nei confronti di Cappuccino Bay per linea interna in terza posizione Scrum Master all'argo Lady Cashel poi ancora Sir Marley con in coda all'argo di tutti Ornigold siamo ora in retta d'arrivo a 500 dal palo Larix sempre in vantaggio Cappuccino Bay è stato infilato all'interno da Scrum Master che si porta gradatamente su Larix mentre a centropista si propone Lady Cashel con all'esterno di tutti anche Ornigold per linea interna è Sir Marley a 250 dal palo è passato Scrum Master nei confronti di Sir Marley che avanza all'esterno con vicino anche Lady Cashel nel finale Sir Marley si propone all'attacco deciso di Scrum Master i due in lotta con Scrum Master all'interno e Sir Marley all'esterno che passa di precisione sul palo al terzo posto Lady Cashel poi Larix andiamo a rivedere questo bel finale tra Gabriele Di Manuele e Dario Di Tocco e nel finale è Sir Marley che di precisione prende il suo pravento con il numero due nei confronti di Scrum Master numero cinque mentre per il terzo a qualche lunghezza è Lady Cashel numero quattro quindi due cinque quattro il probabile e ufficioso arrivo della quarta di Napoli